Le rinnovabili promettono una possibilità di creare posti di lavoro. Abbiamo dei dati sicuri dalla Germania dove oltre 800.000 posti di lavoro sono stati creati quasi esclusivamente dall'eolico e poi sono stati creati altri anche dal fotovoltaico. Quindi ci sono tutti i motivi per pensare che l'Italia può seguire lo stesso percorso. Ma anche l'efficienza energetica può creare importantissimi posti di lavoro in questo paese e soprattutto sono posti di lavoro locali perché l'efficienza energetica è fatta localmente e non viene importata.